Comunque Vade il 5 maggio 2024 sarà una data importante nella storia cestistica pesarese. Quelli di Venezia saranno infatti gli ultimi 40 minuti di gioco in cui la Carpegna Prosciutto, Basket e Pesaro si gioca la fetta più grande della sua stagione, consapevole però di non essere padrona del proprio destino. Alla Vuelo infatti una vittoria, prerogativa fondamentale da ottenere in Laguna, potrebbe non bastare. La formazione allenata da coach Emeo Sacchetti dovrà per forza di cose strizzare l'occhio alle sfide di Treviso e Varese. I Veneti sono impegnati in casa contro Tortone e a Pesaro serve una vittoria della formazione piemontese per la permanenza in Serie A. Non basta però solamente la sconfitta di Treviso con la Vuelo che deve augurarsi il successo esterno di Varese sulle campo di Pistoia. Varese e Treviso arrivano a quest'ultima giornata con due punti in più rispetto alla Vuelo, ma lo 0-2 dei pesaresi nello scontro diretto contro i Lombardi pesa come un maccigno e costingerebbe Pesaro, nelle case di arrivo a pari punti con entrambe, ad essere la seconda squadra retrocessa delle campionato dopo Brindisi. A questo punto noi dobbiamo andare a giocare, cercare di giocare la nostra miglior partita, sappiamo che non è una cosa facile perché è fuori casa con una squadra forte fisicamente, profonda, però è giusto che noi lasciamo all'ultima partita qualcosa di nostro perché poi può succedere di tutto però dobbiamo pensare a noi, non pensare agli altri e poi finita la partita vedremo quello che è successo. Che tipo di squadra è Venezia e come si può provare a vincere in casa di Venezia? Beh sicuramente è una squadra che fisicamente è molto forte, anche nei ruoli di guardia, hanno sicuramente dei centri importanti, logicamente noi dovremmo cercare di fare molto più canestro, non subire fisicamente qualcosa di troppo perché tanto sappiamo che avremo dei problemi sotto canestro, però dovremmo lavorare meglio ai rimbalzi, forse anche più che coi piccolini per cercare di portare via qualcosa per poter andare in contropiede. I tifosi, voglio dire, l'amore di Pesaro come ho detto l'ho visto da giocatore e adesso l'ho visto da allenatore e continuate così perché si vede proprio che ce l'avete nel sangue.